Sgomento e dolore, questi principali stati d'animo vissuti in queste ore dalla comunità di Santeramo in Colle, profondamente scossa dalla tragedia che ha colpito un proprio concittadino. Nel pomeriggio di sabato 18 maggio Giuseppe Cacciapaglia, 17 anni, è stato folgorato da un fulmine mentre era in campagna al pascolo con il padre e stava facendo rientrare il gregge nella stalla a causa del forte temporale incorso. Il ragazzo aveva con sé un ombrello per ripararsi e fosse stato proprio questo oggetto che ha tirato la scarica elettrica che lo ha colpito senza lasciargli scampo. In queste strade di campagna in contrada a Chiancaro a Santeramo in Colle la tragedia che ha portato alla scomparsa del 17enne Santermano Giuseppe Cacciapaglia. Giuseppe Cacciapaglia frequentava il terzo anno dell'istituto Nervi Galilei e proprio l'istituto gli ha riservato un messaggio di cordoglio sulla pagina facebook postando una sua foto. Giuseppe vivrai sempre nei nostri cuori recita la didascalia dei compagni. Grande appassionato di calcio Giuseppe militava nell'under 17 del Santeramo Calcio e anche i suoi compagni di squadra gli hanno dedicato un messaggio. Corri cacciacorri ogni domenica ti toccava correre e scontrarti con gli avversari. Ci è voluto un fulmine arrivato dal cielo a fermarti quel cielo che da domani sarà il tuo campo da gioco la tua terra la tua casa lontano da noi fisicamente ma sempre presente nei nostri cuori. Corri cacciacorri. Così il testo scritto dai compagni. Siamo sconvolti di questa disgrazia che è successa a questa famiglia, alla famiglia. Quando l'ho vista mattina in manifesto e devo dire la verità mi è dispiaciuto moltissimo. Non so cosa dire, è una bravissima famiglia, lavoratori tutti con loro. È un dispiacere, è una cosa brutta. Un dispiacere immenso. Sì, 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 proprio da me è un dispiacere. Non ce l'aspettavamo una cosa di questo, proprio che è ciò che è accaduto. È uno sportivo che era tesserato in una delle, insomma, delle più quotate scuole calcio di Santeramo. Gente che lavora onestamente da una vita e che perde un figlio in questa maniera così è davvero agghiacciante. Siamo tutti profondamente sconvolti.